Siamo con Matilde Villa post partita contro la Grecia, Mati esordio in quintetto, com'è stata l'emozione? Sicuramente è sempre emozionante giocare con la maglia della nazionale, non mi aspettavo neanche di partire in quintetto quindi sono stata molto felice vedere un sacco di gente a vederci, a supportarci, sicuramente ci ha dato una motivazione in più per giocare bene e siamo felici di aver fatto anche questa etapa qui in Italia. Adesso trasferta tosta in Germania? Sì, sicuramente la Germania è molto tosta, ce la ricordiamo anche all'amichevole dello scorso anno quindi sicuramente dobbiamo andare tosta, aggressive e sicuramente noi metteremo il cuore perché quando indossi questa maglia ovviamente devi metterci il cuore e quindi vediamo come andrà, speriamo. Grazie mille! Grazie!